ciao sono marta e faccio parte del team cta consulenza tecnica academy di ivar ciao sono simone e anch'io faccio parte del team cta di ivar l'attenzione alla qualità dell'acqua è oggi un fattore determinante per la durata di una caldaia per questo noi di ivar abbiamo creato durstop un defangatore compatto che grazie ad un filtro maglia e all'azione di un potente magnete impedisce l'accumulo di impurità all'interno del generatore di calore all'interno della scatola trovate durstop una valvola sfera per la connessione lato impianto un raccordo girevole per la connessione lato caldaia due tappi ed un porta gomma per agevolare l'operazione di pulizia infine il foglio istruzioni in funzione degli spazi presenti sotto caldaia è possibile installare durstop in orizzontale o in verticale utilizzando le condizioni diritte o a squadro infatti è possibile installarlo in quattro differenti posizioni tutte con la massima efficacia filtrante tutto questo è possibile grazie all'inserto brevettato il quale costringe l'acqua a passare vicino al magnete e attraverso il filtro maglie in tutte le posizioni di installazione in questo modo le impurità vengono intercettate e poi facilmente eliminate attraverso il rubinetto di scarico l'inserto brevettato può essere collocato in due differenti posizioni la posizione a e la posizione b la posizione a è la posizione di fabbrica la posizione b la si ottiene sfilando l'inserto ruotandolo di 180 gradi e reinserendolo all'interno del durstop quando devo ruotare l'inserto per queste due posizioni di installazione l'inserto deve essere lasciato in posizione a invece per queste due posizioni di installazione l'inserto deve essere ruotato in posizione b durstop è realizzato in xf un tecnopolimero dalle eccezionali caratteristiche meccaniche è disponibile in due colorazioni bianco o nero per rispondere alle esigenze estetiche del cliente a a a a a a a